Un saluto dal Tg della mobilità, inquinamento, smog oltre i limiti, anche oggi c'è lo stop ai veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde cittadina. Il divieto riguarda dalle 7.30 alle 20.30 le auto a benzina Euro 2 e moto e motorini Euro 0 ed Euro 1 e poi c'è anche lo stop per i diesel Euro 3 dalle 7.30 alle 10.30 e poi dalle 16.30 alle 20.30 maggiori dettagli e tutte le deroghe e la mappa della fascia verde sono su romamobilita.it Le altre notizie, nuova fase dei lavori di riqualificazione di via del Tritone, interessata la corsia preferenziale da piazza Barberini a largo del Tritone, modifica di percorso per 13 linee di bus.